In Italia, in Italia, in America, in Europa, in Italia, sicuramente nei paesi occidentali perché in altri paesi non hanno dato la spiegata. In Italia, in America, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, il paese di molto strano perché è molto grande e è possibile rec Sevв говорiando in Italia. Scusate, ancora una bambina, ancora. Vai la domanda, vai. Non si sente niente. Ssssssssssss. Adesso. Gira, vai. Gira, vai. Vai, datemi una cosa. Luce, vai. Scusate. 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 Scusate.